Primo appuntamento oggi con l'iniziativa Tipici da Spiaggia, realizzata da Sibconf Commercio con il patrocinio del Ministero del Turismo e dell'Agricoltura. In vari stabilimenti balneari parata di prodotti tipici per una libera degustazione riservata a bagnanti e turisti. Vino, pane e olio non solo offerti nell'ora dell'aperitivo, allo scopo di promuovere le prelibatezze del territorio. È fatta proprio per dare la possibilità in tutte le coste italiane agli enti locali, quindi promuovere direttamente i loro prodotti sul mare. Come potete vedere abbiamo dall'olio ai formaggi, ai pomodori, a tutti quei prodotti veramente locali fatti da uomini con esperienze che vengono veramente dal passato. In Abruzzo gli stabilimenti balneari che hanno aderito all'iniziativa sono Voglia di Mare e la Conchiglia Azzurra, Montesilvano, La Capponcina, Pescara, Baia delle Sirene, El Pareso e Nettuno, Francavilla e Stella del Sud a Casalbordino. Gli altri due appuntamenti sono per il 27 luglio e per il 31 agosto. Abbiamo delle varietà di pane che lasciano con l'acquolina in bocca, abbiamo uno degli oli veramente migliori al mondo, per non parlare poi dei vini, di tutte le qualità. I vini che abbiamo, i pomodori, i nostri terreni sono veramente ricercati in tutto il mondo.